Generale, che cosa dobbiamo aspettare? I tedeschi hanno inviato a tutti gli ufficiali italiani l'ordine di presentarsi al loro comando. In guerra c'è una sola soluzione, vincere. E noi siamo stati sconfitti. I titini stanno risalendo l'Istria. Presto avranno occupato la maggior parte delle città dei paesi. Il pericolo per la gente italiana è alto. Arriveranno anche a Visinata. Sono già lì. Io credevo che col tempo avrei dimenticato tutto. Invece quel che ho visto da bambina è cresciuto con me. Il professore dell'università mi ha aspettato altre volte, non posso mancare ancora. Ti ho detto che non puoi andare. Siamo bloccati. Tu conosci Carlo Wiesentrini? Una moglie conosce il proprio marito. Allora sai dove sia? Ma cosa volete da me? Siate chiari. Collaborazione. Per la resistenza. Io servo Dio! Soltanto i tedeschi potranno aiutarci. Stai tradendo anche tuo padre? Te chi? Per cosa? Voglio notizie. Informazioni. Chi sono dunque queste persone? Fascisti? Comunisti? No. Sono solo delle povere vittime. Fantocci. Prigionieri della propria ignoranza. Carne da macello sottomessa al volere dei propri governanti. Asini che governano pecore. Sono... Sono degli esseri umani. Siamo tutti noi.